Allora questo è un emendamento estremamente importante per noi perché è l'indicazione per l'amministrazione affinché a titolo non oneroso sia introdotto il pasto per gli OEPA in servizio al momento dell'erogazione dello stesso. Proprio in virtù del fatto che riteniamo il momento del pasto un momento di proseguimento dell'azione educativa. Quindi invito a votare sì. Grazie.